salve sono francesco da prato avevo un problema con il caminetto che faceva fumo soprattutto durante l'accensione e quando calava la fiamma ma a volte faceva qualche sbuffo di fumo anche durante la normale combustione della legna mi sono quindi deciso dopo essermi informato su internet ad acquistare l'aspirafumo gemi modello base come potete vedere dal video il mio caminetto adesso non fa nessuno sbuffo di fumo funziona perfettamente questo è il regolatore di velocità normalmente lo uso alla velocità 2 3 ma funziona bene anche la velocità 1 tutte le velocità sono perfettamente silenziose tranne la velocità 6 che fa un leggero rumore ho installato personalmente l'aspiratore sul camino ed è stato tutto molto semplice ed esteticamente è bello da vedere ringrazio gemi per avermi risolto questo problema